Stavo dicendo che lo scorso anno avevamo avuto un cambio di maestri con l'arrivo di Sara Malandrone a dirigere la banda. Però per sue vicende personali lo scorso inverno Sara ha dovuto rinunciare all'incarico e quindi questa sera, anche non è presente per impegni lavorativi, noi la ringraziamo ugualmente, lei ci saluta tutti quanti e noi ricambiamo di cuore. Bene, speriamo che Sara in qualche modo riesca a recepire questo applauso che ne è stato fatto. E quindi questa sera alla direzione ci sarà un nuovo maestro. Audrey Hepburn diceva, se gli uomini fossero belli e intelligenti si chiamerebbero donne. E di fatti ne siamo convinti anche noi. Di fatti la nostra banda ha scelto un'altra donna come direttrice, la professoressa Chiara Sandri. Chiara è flautista ed insegnante alle scuole medie, ha già diretto alcune formazioni musicali come la fanfara alpina e da diversi anni è insegnante presso la nostra scuola di musica. Si trova a gestire la direzione, certo in un periodo un po' particolare, un po' sfortunato, tra prove rimandate a causa del covid e distanziamento tra suonatori. E anche questa è una cosa molto importante. Ovviamente tutto questo rende molto più difficoltoso l'armonizzazione di tutto quanto. Ma lei è veramente in gambe e quindi è riuscita brillantemente a superare anche queste difficoltà. Di fatti lo sappiamo tutti che per grandi sfide ci vogliono persone in gamba come appunto è Chiara Sandri.